E signori, io devo applaudire questo Napoli, perché poi io sono un grande detrattore di Gennaro Gattuso e sono un grande fan di Luciano Spalletti, e l'anno scorso i napoletani, io li ho massacrati l'anno scorso, io mi ricordo che dicevo, ma questo Napoli è una delusione l'anno scorso, e c'era chi fino alla penultima giornata, perché poi l'ultima giornata sappiamo che è successo, diceva che il Napoli Gattuso aveva fatto il suo, aveva fatto il suo, ma il Napoli è una squadra che nelle prime quattro ci deve essere di default, e ripeto, In un campionato livellato come quello che era l'anno scorso e come quello di quest'anno, un Napoli lo scudetto lo può anche vincere se azzecca la stagione, se magari lascia un pochino perdere le coppe europee, stiamo attenti, è chiaro, io non penso lo vinca, sia chiaro, però può, questa è una mia opinione che non lo vince, però può vincerlo, ha tutte le carte in regola, perché dà continuità più o meno alla stessa rosa quest'anno, perché il Napoli l'anno scorso era più o meno quello, però è uscita il sedicesimo d'Europa League col Granada, In Coppa Italia è uscita i quarti, comunque non ha fatto granché, e ripeto, poi alla fine è arrivata quinta, che è un fallimento, perché il campionato l'anno scorso ha tolto l'Inter, il resto erano squadre a livello del Napoli se non inferiori, è chiaro, quindi ottimo Napoli contro un ottimo Udinese, perché l'Udinese è in grande spolvero quest'anno, e quest'anno farà molto bene, a parer mio, a una squadra di giovani, Ma oggi il risultato non è bugiardo, è giusto, ma grandi meriti al Napoli, grandi, perché l'Udinese non era partita male, assolutamente no, però è un grande Napoli che sta acquistando anche fiducia da questi risultati, è chiaro, poi è solido dietro, perché due gol subiti, col Genoa, gol di Cambiasso, E quello di Morat, che però è un errore individuale, un infortunio, quindi non è un errore di reparto, quindi è un Napoli che sta bene, e poi là davanti, se tu non subisci niente, là davanti con i giocatori che hanno, segnano sempre, no? Poi se si mettono anche a segnare, Koulibaly, vabbè, è uno che il gol li sa fare da sempre, è un certo Ragamani, allora vedete che magari è l'anno giusto, chi lo sa, comunque veniamo un attimo alla cronaca del match, L'Udinese che ha schierato queste due punte mobili dell'Ofeo Pussetto, magari per provare a mettere in difficoltà la difesa del Napoli, ma non c'era uscita, era partita bene, io stasera ci stava anche lo scherzetto dell'Udinese, io vi dico la verità, non mi aspettavo una vittoria così schiacciante, considerando il fatto che al Napoli è andato al King Power Stadium a pareggiare 2-2 schierando più o meno i titolari, quindi ha anche speso energie, quindi sfatando anche il mito della stanchezza dell'Europa League, anche se sicuramente poi alla lunga verrà fuori, gol di Osimè, confezionato da Insigne, verticalizzazione per lo scunizio che supera con un pallonetto bellissimo Silvestri, e Osimè come un falco, Osimè sta bene fisicamente, è in fiducia, quest'anno io ve l'ho detto, anche al Fanta Calcio, dopo Immobile il primo top da prendere è Osimè, perché se sta bene fisicamente, se mette la testa a posto, io l'ho visto oggi fare reparto da solo contro tre difensori, quindi tanta roba, deve un po', l'ha detto anche Spalletti, un po' sgrezzarsi tecnicamente, ma come vi dico sempre, la tecnica si può allenare, il fisico che Osimè invece o ce l'hai o non ce l'hai. Radop di Rammani su un bellissimo schema su calcio di punizione, assist di Koulibaly, scavalcando Silvestri, forse non impeccabile, ma nulla da dire, prima c'era stato anche un pallo di Fabia Ruiz a Silvestri battuti, a Ragamani ribadisce in rete 2-0, dovrebbe essere il secondo gol con la maglia del Napoli di Rammani se non vado errato, 3-0 di Koulibaly, sempre su calcio d'angolo, quindi vedete, primo su punizione, calcio d'angolo, le grandi squadre sfruttano i calci piazzati, cosa che ancora noi non sappiamo fare, perché tante volte le partite si risolvono anche così, anche se il Napoli oggi non ha avuto bisogno degli episodi, e ci mancherebbe, e sponda di Ruiz per Koulibaly che calcio di controbalzo, 94 km orari, e qua il portiere è esente da colpa assolutamente. Poi non c'è stata più storia, diciamo che già dopo il 2-0 l'Udinese ha tirato i rimi in barca, non ha mai mollato, ma non ce n'è, non ce n'è, anguissà, devo dire, tanta roba, e poi è arrivato il 4-0 di Lozano su assist di Mario Rui, ma ormai a partita praticamente conclusa. Ok, quindi Napoli che ha surclassato sotto tutti i punti di vista l'Udinese, c'è il mas che continua a sembrare Cavani, quindi tagliati sti capelli o cambia numero di maglie, perché quando ti vedo mi penso a Cavani, è sto male, perché io ero e sono un grande fan del Matador, e niente, ragazzi, non ha subito un tiro in porta al Napoli, quindi anche molto solido dietro, 18 tiri a 9, e ripeto, un tiro in porta all'Udinese, 1, 60% di possesso palla, quindi un Napoli che può solo che migliorare secondo me, perché già è forte, questi risultati ti rendono consapevole dei propri mezzi, spalletti, spalletti, diciamo che è solito a partire forte, poi si va un po' a spegnere, però ripeto, in un campionato livellato, se il Napoli punta tutto sulla Serie A, stiamo attenti, dico solo questo, signori, like al video, iscrivetevi, bella.